3, 2, 1, via! Un live club senza musica non è un live club, questo l'annuncio lanciato sui social, erano 90 le sale o i locali collegati da tutta Italia, ma il concerto non c'è stato, nonostante ne avessero parlato sia le testate web che i giornali, un messaggio forte da parte di un settore in ginocchio, un messaggio che parla anche salentino. Voglio stare in mezzo alla gente, mi manca tanto il tuo sudore, solo tu mi puoi curare, perché nessuno ha il diritto di fermare la musica.